benvenuti in questa guida top 7 gel trattino basso lubrificanti di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative ma partiamo subito al settimo posto troviamo biolove naturalab lubrificante sessuale 100% naturale a base d'acqua senza parabeni e solfati bioinspecta certificato naturale biologico biolove natural vediamo la nostra valutazione la qualità generale raggiunge 4 stelle favorevole l'offerta una funzionalità straordinaria 3 stelle per il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 72 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo durex naturals 100% di ingredienti di origine naturale durex naturals pure un gel lubrificante delicato prodotto a partire da ingredienti di originale ecco cosa pensiamo qualità generale davvero eccezionale nell'offerta assegniamo 3 stelle con particolari caratteristiche straordinario il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 80 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo aquviu gel lubrificante a base d'acqua la formula basata sull'acqua tutto ci che serve per introdurre un uso extrascivoloso vediamo la nostra valutazione nella qualità generale diamo 4 stelle estremamente convincente l'offerta con caratteristiche ottime con un rapporto qualità prezzo fuori dal comune il nostro punteggio generale è di 86 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare durex naturals 100% di ingredienti di origine naturale durex naturals pure un gel lubrificante delicato prodotto a partire da ingredienti di originale vediamo il nostro parere un eccezionale qualità generale imbattibile l'offerta a prezzo scontato con caratteristiche davvero soddisfacenti nel rapporto qualità prezzo raggiunge 3 stelle il nostro punteggio generale è di 88 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo durex eternal lubrificazione a lunga durata gel intimo a base siliconica che offre una lubrificazione di lunga durata anche solo una piccola quantità vediamo la nostra opinione una buona qualità generale 4 stelle per l'offerta del momento nelle caratteristiche raggiunge 5 stelle risulta tra i top nel rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 90 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo durex massage gel lubrificante con formula delicata indicato per secchezza vaginale e arricchito con estratto di ylang ylang durex massage 2 in 1 ylang ecco la nostra valutazione 4 stelle nella qualità generale valutiamo l'offerta 3 stelle 4 stelle per le caratteristiche eccezionale il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 89 punti trovi informazioni nel link in descrizione prima posizione vince la classifica durex eternal lubrificazione a lunga durata gel intimo a base siliconica che offre una lubrificazione di lunga durata anche solo una piccola quantità ecco il nostro parere qualità generale davvero soddisfacente nell'offerta assegniamo 5 stelle 4 stelle per le caratteristiche nel rapporto qualità prezzo raggiunge 3 stelle il punteggio è di 98 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale